Buongiorno, benvenuti a questo incontro di accoglienza per i praticanti. Il Consiglio dell'Ordine e l'Ordine nel suo insieme vi danno il nostro benvenuto all'interno della struttura dell'Ordine. L'Ordine è rappresentato da un cartellone che si rispecchia all'ingresso della Sala Riunioni Aldo Milanese, nella quale speriamo di potervi dare il benvenuto al più presto. L'Ordine che cos'è? Per comprendere l'Ordine di Torino direi che un modo efficace può essere quello di leggere la relazione morale, nella quale è racchiuso il percorso che ciascuno di noi compie all'interno dell'Ordine durante un anno, e l'accudimento che la segreteria, la direttrice, il Presidente, il Consiglio, tutto quanto l'Ordine nel suo insieme danno a ciascuno di noi. E in particolare un elemento utile per comprenderlo è proprio il modello Torino. Che cos'è il modello Torino? È quell'insieme di relazioni, nel rispetto dei ruoli ovviamente, che accompagnano l'attività di ciascuno di noi durante l'intero percorso professionale. Ed è in questo modus operandi, in questa formazione mentale, che vi invitiamo ad entrare. Questo vi porterà al termine di un percorso che sicuramente sarà impegnativo, ma il cui esito porterà ad un traguardo importante, del quale noi oggi siamo molto orgogliosi e che ci consente di entrare in ufficio serenamente per svolgere la nostra attività tutte le mattine. È un percorso impegnativo perché è anche un pochino lungo. Il vostro tirocinio durerà 18 mesi, nella slide vedete la freccina che indica appunto che voi siete all'inizio del percorso di tirocinio. Un percorso di studio importante perché per prepararsi all'esame di Stato occorre uno studio intenso, ma che non terminerà e questa è la bella notizia in realtà perché vi consentirà di essere sempre molto attivi anche nell'apprendimento e nella formazione. Ed è un percorso di formazione che vi guiderà poi nel corso di tutta la vita professionale insieme agli altri adempimenti che sono tipici dei professionisti. Quindi superato poi l'esame di Stato avrete in ogni caso l'obbligo di formazione professionale continua, l'aggiornamento vi verrà spontaneo perché dovrete rispondere alle domande dei clienti nell'ambito in cui avrete deciso comunque di specializzarvi oltre all'obbligo assicurativo. Qual è il supporto che l'ordine ha intenzione di offrirvi durante questo percorso di tirocinio di 18 mesi e poi continuerà a seguito dell'iscrizione all'ordine? Un percorso che può essere svolto in parte sul sito, in parte speriamo presto anche in presenza presso l'ordine. Il sito è strutturato e ha dei contenuti importanti ed è sempre fruibile in qualunque ora del giorno e della notte. Quindi utilizzate le vostre credenziali e giocateci un po' col sito, prendete confidenza perché i contenuti sono veramente tanti e importanti. Io ve ne illustrerò alcuni principali che riteniamo poter essere di maggior aiuto per voi. Contenuti utili possono essere ad esempio quelli della sezione come fare per, dove è possibile trovare le guide all'utilizzo del sito che sono utili per orientarsi all'interno appunto dei vari link e dei vari contenuti. Trovate appositamente strutturato per i praticanti anche la parte del registro praticanti nella quale sono contenute le linee guida per il tirocinio sia per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista esperto contabile, sia per l'abilitazione all'iscrizione al registro di revisione legale. Ecco, tenete sempre ben presente questo doppio binario. Abbiamo quindi due tirocini distinti, uno per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista, la cui durata è di 18 mesi, l'altro per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di revisore legale. Questo tirocino ha una durata di 3 anni, quindi 36 mesi. I due tirocini possono sovrapporsi, quindi possono iniziare insieme, l'uno terminerà prima, l'altro terminerà 18 mesi dopo. L'iscrizione però per il registro dei revisori è distinta, per cui nel momento in cui vi siete iscritti, perché se state ascoltando questo benvenuto è perché siete già iscritti nel registro dei praticanti. La vostra iscrizione al registro dei praticanti per conseguire l'abilitazione alla professione di dottore commercialista e esperto contabile non ha comportato l'automatica iscrizione invece al tirocino di revisione legale, che dovrà essere da voi fatta autonomamente sul sito del MEF, nella sezione del registro revisori. Quindi fate attenzione a questo, ma torneremo su questo argomento. Quindi nel come fare per trovate le linee guida vi invito a leggerle e quindi a evidenziare le parti di vostro interesse. In ogni caso adesso affronteremo insieme alcuni aspetti. Le modalità per acquisire informazioni sono sia delle modalità che in questo momento privilegiano la formazione a distanza e anche lo svolgimento delle pratiche a distanza. Tuttavia di volta in volta vi consiglio di verificare sul sito quali siano le modalità in essere in quel momento per rispondere alle vostre esigenze. La segreteria è sempre a vostra disposizione. Nelle slide che seguono troverete anche i link di contatto. Un altro spazio all'interno del sito che può essere utile alle vostre esigenze e quindi da consultare è quello della modulistica all'interno del quale potete trovare tutte quelle che sono le modulistiche utili in questo periodo di praticantato. Quindi di nuovo vengono riproposte le linee guida ma vengono proposti anche i protocolli per lo svolgimento del tirocinio in convenzione stipulato con la Facoltà di Economia di Torino e quindi tutto quello che è il tirocinio che si può svolgere prima del conseguimento delle lauree triennale o magistrale durante l'ultimo anno di frequenza di ciascuno di questi corsi. Ma torneremo anche su questo. Sempre sulla modulistica trovate sia i moduli di iscrizione nel registro dei praticanti, questi ovviamente sono i moduli per l'iscrizione al registro dei praticanti finalizzato al conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio della professione di dottore commercialista e esperto contabile, così come trovate poi tutti quei moduli utili a eventuali modifiche che possono intervenire nel corso del tirocinio. Quindi trovate quei moduli per la richiesta della sospensione del tirocinio professionale, vedremo quali sono le casistiche in cui è possibile questo, oppure per il cambio di dominus durante il periodo di tirocinio e anche la modulistica utile alla richiesta di rilascio del certificato di compiuto di tirocinio, così come quella per l'eventuale trasferimento ad altro ordine. Sempre all'interno del sito e nell'area libera, stiamo ancora parlando dell'area ad accesso libero, trovate il calendario dei convegni e trovate tante altre notizie che sono utili per lo svolgimento della nostra attività. Vi invito a curiosare all'interno del sito, ma soprattutto nell'ambito del calendario convegni potete trovare già in primo piano tutti quelli che sono gli eventi che vengono organizzati dall'ordine, sia quelli online, i webinar, sia quelli in presenza. La partecipazione ai convegni, che potrebbero essere di vostro interesse, è possibile anche durante il tirocinio. Quindi verificate sul sito quali sono gli eventuali convegni, eventi di vostro interesse, qual è la programmazione, potete a quel punto procedere all'iscrizione direttamente online nell'area riservata oppure mandando una mail alla segreteria del nostro ordine, qua trovate l'indirizzo mail. Il supporto dell'ordine non si ferma a quella che è l'area libera in questa fase di praticantato, ma trovate un'area appositamente studiata e realizzata per voi, che è quella circondata in verde, in sfondo verde, registro dei praticanti, scuola Piero Piccati e Aldo Milanese, temi esami di Stato. Cliccando lì, dopo aver inserito le vostre credenziali di accesso, vi viene proposto all'estensione del menu a tendina, dove ci sono tantissimi temi dedicati. li possiamo scorrere brevemente nella tendina, quindi oltre alle norme e regolamenti c'è una parte di news praticanti che è molto utile, la vedremo nel dettaglio, e poi c'è tutta la parte che riguarda proprio i corsi di preparazione all'esame di Stato, dove vengono riproposti, oltre al calendario del percorso in essere della scuola Piccati Milanese, anche il calendario e i materiali dei due anni precedenti. Così come c'è una sezione dedicata proprio ai temi d'esame e quindi vengono proposti qua i temi di esame degli anni passati, sia per i dottori commercialisti che per esperti contabili ed anche per i revisori legali in questo caso. Tutto il materiale e le modalità di iscrizione, eccetera, le varie curiosità potete trovarle nella sezione come iscriversi, quindi lì viene data risposta a tutti quei quesiti che attengono specificatamente l'esame di Stato. Mentre per quanto riguarda la scuola di formazione Piccati Milanese, trovate nella sezione dedicata il calendario e le specifiche informazioni, ma torneremo anche sulla scuola. Una sezione particolarmente utile dell'area praticanti è proprio quella delle news praticanti di cui dicevamo poc'anzi. In questa sezione vengono proposte le ultime circolari che vi sono state inviate, nelle quali ci sono temi di specifico interesse o che comunque sono oggetto delle maggiori domande che vengono proposte alla segreteria. In particolare in questo momento vedete evidenziato un aspetto interessante sul deposito del libretto di tirocinio e sul quale vorrei un attimo concentrare la vostra attenzione. In particolare in questo momento, data la particolare situazione che stiamo vivendo, le modalità di deposito sono state dematerializzate, si è cercato di velocizzare questa fase. Quindi con riferimento anche al semestre che si è concluso il 30 giugno, potrete provvedere all'adempimento di consegna del libretto e quindi contenente la relazione semestrale tramite anche PEC, quindi posta elettronica certificata, oppure consegnandolo in segreteria. La segreteria non tratterrà il libretto ma provvederà immediatamente a trattenere semplicemente una copia e consegnandovi direttamente l'originale. Quindi l'originale rimarrà sempre a vostre mani. E quindi il libretto verrà immediatamente timbrato nel caso in cui vi siate presentati in presenza, in segreteria e riconsegnato all'interessato. Nell'ambito dei 15 giorni successivi verrà comunicato eventualmente all'interessato qualche indicazione relativa. In caso che tutto vada bene, varrà il silenzio assenso, quindi la documentazione verrà tacitamente acquisita. Un'altra informazione utile che trovate nelle news praticanti è quella di richiesta di Sherpa On Demand. Quindi è un servizio piuttosto recente che è stato inserito a beneficio dei tirocinanti. In cosa consiste questa attività? Questa attività è un supporto che viene fornito da giovani commercialisti che hanno completato il loro percorso di iscrizione all'ordine non da molto, che possono aiutarvi a fornirvi degli indirizzi su tematiche generali per quanto riguarda la vostra preparazione all'esame di Stato. È un supporto che può essere spot. Quindi quando ce ne sia necessità è sufficiente farne richiesta alla segreteria dell'ordine specificando all'interno della mail quale sia la tematica sulla quale necessitate di supporto. E quindi vi viene assegnato un collega il quale vi contatterà e fornirà le risposte delle quali avete bisogno o le indicazioni, suggerimenti per la vostra preparazione. E questo ci è sembrato utile. Un altro elemento importante che si trova sempre nelle news praticanti è quello della convenzione per lo svolgimento delle attività formative di orientamento non equipollenti al tirocinio ma equiparabili a degli stage di formazione che si possono svolgere presso i tribunali di Torino e di Ivrea. Questa attività consente di fatto di entrare nella pratica operativa di quelle che sono tutte le attività che si possono svolgere con il tribunale. Quindi coloro che fossero interessati a orientare la loro attività futura nei rapporti col tribunale, quindi fallimentare e quant'altro, possono fare richiesta di accedere a questo percorso di stage. Devo dire che è piuttosto interessante. In questa fase ovviamente ha un avvio un po' complicato dalla esperienza di emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Ciò non di meno è un percorso nel quale crediamo molto, sia come ordine che come tribunale è stato messo in piedi con grande entusiasmo. Quindi farà sicuramente piacere se manifesterete il vostro interesse. Ecco, vorrei tornare un attimo indietro alla scuola di formazione Piccati Milanese. Avrebbe dovuto parlare insieme a me il professor Cantino, avremmo dovuto scambiarci la parola, ma probabilmente vi anticipo qualcosa che lui approfondirà in un successivo momento. Però mi sembra importante darvi un'infarinatura di questa scuola. Che cos'è la scuola Piccati Milanese? È un percorso di alta formazione alla professione. Non sarebbe corretto e forse sarebbe estremamente riduttivo rappresentarla come esclusivamente propedeutica all'esame di Stato. Non è solo tale. Come propedeutico all'esame di Stato, di preparazione all'esame di Stato, c'è un modulo specifico della scuola, lo chiamiamo modulo speciale, ed è dedicato all'approfondimento dei temi di esame, alla correzione degli stessi in maniera congiunta. Consigliamo di frequentarlo nelle immediate prossimità della sessione d'esame che riterrete opportuno frequentare, alla quale vi vorrete iscrivere. Mentre il percorso della scuola di formazione, con tutti i moduli nei quali si compone, potrete trovarla approfondita nel calendario dei moduli che sono a rotazione. Quindi continuano senza interruzione, salvo la pausa estiva, per tutto l'anno e sono in continuità. Quindi durante i vostri 18 mesi, in qualunque momento, potrete iscrivervi alla frequentazione dei moduli e non preoccupatevi di iniziare dall'uno piuttosto che dall'altro, perché nell'arco dei 18 mesi riuscirete a frequentarli tutti. È un impegno notevole che l'Ordine ha profuso per strutturare la scuola di formazione. La scuola di formazione è proprio un avvicinamento ai contenuti della professione, quindi sia di tipo pratico che di tipo teorico, ma declinati nell'ambito della pratica professionale. Cosa si richiede? Sicuramente è un impegno importante, perché le lezioni si svolgono il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, quando è possibile frequentarle di persona. Stiamo strutturando la scuola con i moduli online, quindi sarà possibile, forse più agevole da parte vostra, frequentare i moduli, e quindi ascoltarli anche in video. Quello che si richiede però è costanza. Viene profuso un impegno importante. È un impegno sia per trasmettere contenuti, ma anche per trasmettere un modus operandi, che è quello che poi utilizziamo costantemente nella professione, che è di contatto e di relazione, perché all'interno della scuola si impegnano nell'attività formativa colleghi, professori universitari, ma anche membri autorevoli dei vari enti e organizzazioni con le quali noi veniamo in contatto. E quindi troviamo magistrati, troviamo funzionari dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Entrate e Discussione, dell'Inps, dell'Inail, che in qualche modo mettono a disposizione dell'Ordine e dei praticanti le loro competenze professionali. Questo per entrare proprio in quello che sono i meccanismi operativi di tutta quella che è la teoria che studiamo e che poi ci vede operare a fianco dei clienti per assisterli in tutte le varie attività. Quindi è proprio entrare in quello che sono i meccanismi della professione, le modalità operative della professione e anche entrare in un mondo di relazioni. Relazioni che con la finalità dell'esame di Stato vanno coltivate anche tra voi, quindi è molto importante che si creino quelle relazioni, quei contatti che vi accompagneranno poi nella vita professionale anche tra di voi. e quindi vi invito anche a studiare in gruppo, a creare dei gruppi di studio, dove è vero che l'attività di approfondimento, di acquisizione delle conoscenze è individuale, ma il confronto nello svolgimento delle esercitazioni, ma anche nei dubbi interpretativi di quello che avete studiato, è sicuramente utile. Ed è poi quello che quotidianamente ci troviamo a svolgere ogni volta che affrontiamo delle novità normative e dobbiamo interpretare le norme. Quindi la scuola Piccati Milanese per l'ordine costituisce un fiore all'occhiello e un unicum, la partecipazione è assolutamente gratuita e di qua la costanza che viene richiesta. Quando le lezioni possono svolgersi in presenza, noi richiediamo la partecipazione almeno all'80% di quei moduli che si svolgono in più di una lezione. Questo perché comunque i posti a disposizione non sono illimitati, sono limitati, e quindi è responsabilità di chi sceglie di partecipare, poi frequentare effettivamente le lezioni. Come dico, a parte il modulo speciale, la scuola non ha una finalità di trattare esclusivamente i temi che potranno essere oggetto di esame. La scuola ha la finalità di preparare allo svolgimento dell'attività di dottore commercialista ed esperto contabile, quindi abbraccia argomenti più ampi che consentono di percorrere l'attività professionale ad ampio spettro, a 360 gradi. È chiaro che l'esame di Stato è quel momento nel quale ciascuno di noi è stato preparato su tutto quello che può essere oggetto della professione. Poi ognuno cercherà di specializzarsi in qualcosa, seguirà quelle che sono le sue inclinazioni, le sue passioni. A volte seguirà anche quello che i clienti richiedono di più dalla nostra professionalità, quindi ci specializzeremo. La scuola in questo invece segue un po' di più quello che è lo schema dell'esame di Stato perché abbraccia l'intera tematica, le intere tematiche della professione. Ok, torniamo a dove eravamo rimasti. Sul sito ho cercato di rappresentarvelo, c'è tutto, c'è molto, però magari un piccolo aiuto nel capire e affrontare alcuni dubbi tra quelli che più frequentemente vengono sottoposti alla segreteria o alla commissione tenuta albo può magari essere di aiuto. Allora, innanzitutto torniamo alla durata del tirocinio. Il tirocinio ha una durata complessiva di 18 mesi, lo abbiamo detto fin dall'introduzione. Decorre da quando? Dalla data di deposito dell'istanza di iscrizione presso il registro del tirocinio. Quindi in quel momento si sceglie il dominos e si inizia il percorso. Ma quando temporalmente puoi iniziare questo percorso? Questo percorso può iniziare successivamente al conseguimento della laurea, sia essa triennale, a seguito di una laurea triennale, con il tirocinio che decorre da quel momento, potrete aspirare ad iscrivervi alla sezione B dell'ordine, quindi alla sezione degli esperti contabili. Iniziando il tirocinio al conseguimento della laurea magistrale, aspirerete ad iscrivervi alla sezione A dell'albo, quella dei dottori commercialisti. In quel momento decorrerà la durata del tirocinio. In realtà, sulla base della convenzione di cui vi parlavo, stipulata con l'università, è possibile decorrere l'inizio del tirocinio e quindi iniziare il tirocinio fino a sei mesi prima del conseguimento della laurea. Quindi durante l'ultimo anno di frequenza del corso triennale o durante l'ultimo anno di frequenza del corso magistrale, è possibile iniziare il tirocinio. In questo caso, quel tirocinio, si chiama tirocinio in quel periodo, si chiama tirocinio in convenzione, può durare massimo sei mesi. Quindi, nulla osta che venga iniziato soltanto tre mesi prima del conseguimento, che cosa vuol dire questo? Proviamo a fare un esempio pratico. Se io inizierò il mio tirocinio sei mesi prima del conseguimento della laurea triennale o magistrale, vorrà dire che sei mesi li svolgerò prima della laurea. I successivi 12 mesi che mi occorrono per completare il percorso di 18 mesi, li frequenterò, li conseguirò successivamente alla laurea. Se avessi iniziato soltanto tre mesi prima del conseguimento della laurea triennale o magistrale, il mio tirocinio, stiamo parlando sempre degli ultimi anni dei due corsi, io dovrò poi svolgere i successivi 15 mesi e così discorrendo. In questo slide ho cercato di rappresentarvi il percorso, quindi vedete la freccia gialla, giallo-arancione, che rappresenta il tirocinio in convenzione, quindi questo massimo sei mesi di durata. Poi c'è una casellina tratteggiata che rappresenta il momento del conseguimento della laurea, quindi si cessa il tirocinio in convenzione e si inizia il tirocinio ordinario, quindi successivo al conseguimento della laurea triennale o magistrale e quindi c'è lo svolgimento del tirocinio ordinario che termina con il ritiro e quindi con il conseguimento del certificato di compiuto tirocinio. I 18 mesi sono di svolgimento effettivo del tirocinio. Durante il tirocinio è possibile, non obbligatorio, ma possibile, che ci siano dei momenti di interruzione. I casi di interruzione però sono limitati a quelli che vedete elencati in questa slide. Quindi il tirocinio può essere interrotto senza giustificato motivo per un periodo massimo di tre mesi, con un giustificato motivo per un periodo massimo di nove mesi, oppure al compimento del semestre di tirocinio svolto in convenzione prima del conseguimento della laurea. Non è obbligatorio interrompere il tirocinio prima del conseguimento della laurea. Può essere fatto anche in continuità. Molto spesso si studia per la laurea e si continua il tirocinio senza una soluzione di continuità. È stato indicato come momento di interruzione quello per il conseguimento della laurea perché il semestre di tirocinio in convenzione e poi l'annualità di tirocinio ordinario non possono continuare senza soluzione di continuità se non c'è stato il conseguimento della laurea. Quindi si tratta semplicemente di un coordinamento temporale. Però ci possono essere tanti motivi per cui può essere necessaria un'interruzione. In questo caso ricorrendo alla modulistica di cui abbiamo parlato inizialmente, quindi nell'area specifica dedicata alla modulistica, trovate il modulo che può essere compilato online o compilato manualmente e consegnato in segreteria, utile a rappresentare le ragioni giustificato motivo o assenza di giustificato motivo che rendono necessaria l'interruzione e a questo punto potete conoscere se non c'è giustificato motivo il massimo di interruzione sono tre mesi quindi conoscete il tempo massimo di interruzione oppure in presenza di un giustificato motivo nove mesi di interruzione. La relazione semestrale. La relazione semestrale è un passaggio importante del tirocinio all'interno della quale viene rappresentata l'attività svolta durante il semestre. I semestri di riferimento sono solari quindi non dipendono dal momento nel quale è stato iniziato il tirocinio ma si riferiscono sempre al primo semestre dell'anno quindi gennaio-giugno e al secondo semestre dell'anno luglio-dicembre. Quindi ciascuno di voi è chiamato a compilare il libretto in accordo con il dominus ovviamente andando a rappresentare quello che è l'attività che è stata effettivamente svolta. e quindi a questo punto il tirocinante provvederà agli adempimenti di cui abbiamo parlato inizialmente quindi alla consegna del libretto di tirocinio consegna intendetela tra virgolette in questo momento perché potrebbe essere a seconda della modalità in essere in quel momento ma anche per praticità probabilmente in questo momento vengono privilegiate modalità che non comportino la consegna fisica e il trattenimento da parte della segreteria del libretto in ogni caso il libretto può essere inviato la relazione semestrale può essere inviata via PEC oppure può essere consegnato il libretto all'ordine che trattiene semplicemente copia della relazione semestrale riconsegnando immediatamente al tiricinante l'originale del libretto quindi verificate però sul sito qual è la modalità in essere o eventualmente telefonate in segreteria se non riuscite a essere certi di quale sia la modalità anche semplicemente consultando il sito. A seguito del completamento del percorso di tirocinio quindi siamo a tra 18 mesi il consiglio dell'ordine a seguito della consegna finale del libretto e quindi della conclusione del periodo di tirocinio delibera in merito a quello che è il periodo di pratica effettuato quindi fin tanto che non è intervenuta la delibera che consente il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di fatto non è possibile certificare questo adempimento in ogni caso ai fini dell'emissione dell'esame di Stato dove abbiate compiuto il vostro tirocinio potete già iscrivervi all'esame di Stato la segreteria provvederà il certificato in tempo utile affinché voi possiate sostenere la prova perché nel momento del sostenimento della prova voi dovrete avere a vostre mani il certificato di compiuto tirocinio. Durante il periodo di tirocinio potrebbe capitare che veniate invitati ad un colloquio presso l'ordine con alcuni rappresentanti del consiglio dell'ordine non è una criticità se avviene questo anzi noi lo viviamo come un momento di estrema opportunità opportunità per noi per conoscervi ma anche per magari darvi qualche indicazione qualche suggerimento sul vostro percorso formativo e anche sul vostro futuro professionale opportunità anche per voi per fare quelle domande che magari non ritenete o non trovate il coraggio il tempo di fare con una telefonata o con una mail alla segreteria ma che comunque vi piacerebbe trovassero risposta e quindi un momento di dialogo che ci accresce reciprocamente quindi noi lo troviamo un momento estremamente bello ed estremamente efficace. il tirocinio quindi ho compiuto il mio percorso non mi iscrivo immediatamente per l'esame di stato per sostenere l'esame di stato quanto varrà il tirocinio? il tirocinio vale un massimo di 5 anni quindi tutti i tirocini che sono iniziati successivamente al 16 agosto 2012 hanno questa validità allo scadere del quinquennio quindi dal termine del tirocinio non dal rilascio del certificato ma dal termine del tirocinio senza che sia stato superato l'esame di stato il tirocinio perde efficacia e quindi ahimè bisognerà ricominciare il percorso da capo ma io sono certa che nel vostro caso questo non si verificherà e che potrete al termine del tirocinio efficacemente iscrivervi per poter conseguire l'esame il superamento dell'esame torniamo sulla scuola Piccati Milanese nell'area trovate il calendario delle lezioni e delle esercitazioni e trovate già per rendervi conto di che cosa si parlerà molti materiali soprattutto accedendo alle lezioni degli anni passati potete avere un'infarinatura chiara di quello che è il contenuto di ciascun modulo e quindi potete scegliere quali sono i moduli ai quali vorreste partecipare il consiglio è quello soprattutto di partecipare almeno a quei moduli che riguardano aree di attività che non state vedendo nella pratica nei vostri studi ancorché siano molto utili anche quelle nelle quali invece vi state cimentando negli studi dove fate pratica perché potete accrescere un po' picchino più rapidamente le vostre competenze e quindi dare un contributo più efficace anche all'interno del contesto nel quale siete inseriti un'altra cosa interessante sono i gruppi di lavoro vi avevo parlato inizialmente quando abbiamo approcciato al discorso della scuola di formazione all'utilità di parteciparvi del fatto che è un modo anche per aggregarsi quindi per trovare colleghi con i quali confrontarsi nei vari ambiti nei dubbi che si incontrano per voi nella pratica e per noi i gruppi di lavoro costituiscono la stessa formula di aggregazione e di confronto nell'ambito dell'attività professionale i gruppi di lavoro sono aperti non sono degli elementi chiusi sono proprio dei momenti di studio di approfondimento di quelle che sono le varie tematiche professionali ce ne sono tantissime quindi sul sito potete trovare sia la loro composizione che i temi di cui si occupano e potete scegliere di partecipare fin da ora fin dal periodo di tirocinio a dei gruppi di lavoro per approfondire delle tematiche che siano di vostro interesse come si fa? è sufficiente mandare una mail per chiedere l'iscrizione al gruppo che possa essere di vostro interesse l'attività dei commercialisti è un'attività che sempre di più non è un'attività isolata è un'attività di gruppo, di relazione proprio perché ciascuno di noi può scegliere nell'ambito delle tematiche professionali quelle che più si avvicinano alle proprie passioni ai propri interessi ma anche alle proprie capacità perché ognuno di noi magari è più bravo in alcuni settori piuttosto che in altri e quindi all'interno degli studi sempre di più ci si aggrega per poter abbracciare competenze ampie per poter fornire risposte ai clienti nell'ambito di tutte le tematiche che siano di loro interesse e quindi per fornire quell'assistenza a 360 gradi che i clienti richiedono anche se tutte quelle competenze difficilmente ai livelli alti e di qualità professionale ai quali siamo abituati singolarmente si può sopperire quindi la coesione ed ecco la necessità dei gruppi di lavoro aiuta proprio a acquisire questa modalità operativa questa forma mentale quei rapporti di colleganza che consentiranno di dire guarda ho questo problema ne abbiamo parlato all'interno del gruppo di lavoro mi sembra che tu sia più ferrato di me in questo mi puoi aiutare oppure so che un collega è più bravo in un determinato ambito ci sono alcuni di noi molto specializzati in contenzioso in IVA materia internazionale immobili eccetera mi occorre un approfondimento so a chi rivolgermi oppure mi piacerebbe approfondire quelle tematiche e quindi partecipo a quel tipo di gruppo di lavoro l'ultimo supporto forse il più importante il nostro ordine ha un unicum una grande risorsa una grande ricchezza la nostra segreteria non l'ho messo nelle slide perché la nostra segreteria è caratterizzata da una qualità importante che è il basso profilo e quindi non sarebbero state contente si compone di elementi importanti che rendono questo servizio un servizio di qualità veramente incredibile però sono poche persone ed è per questo che io vi ho tenuto a presentarvi il sito nella sua completezza pur nella ristrettezza della tempistica che questa modalità richiede e quindi sul sito trovate tantissimi contenuti ove però abbiate delle domande che trascendono quelli che sono i contenuti che ci sono sul sito o vi rimangano dubbi ulteriori sappiate di poter contare su una direttrice la dottoressa Testa e su un personale di segreteria estremamente valido e disponibile qua trovate rappresentati gli orari di segreteria il numero di telefono si può prendere un appuntamento per l'accesso in segreteria o si possono formulare dei quesiti via mail o telefonicamente sono estremamente disponibili e competenti in tutto quello che potrà essere di vostra necessità e di vostra richiesta io spero di avervi rappresentato quello che è l'ordine quello che è il sentimento anche che ci lega a questo ente astratto ma che è composto di persone di colleghi che sono orgogliosi di fare questa professione e quindi spero che anche voi veniate contaminati da questa modalità di relazione che c'è tra di noi e spero presto di potervi accogliere dandovi il benvenuto non più come praticanti ma come colleghi arrivederci grazie a tutti